E' vero, ma poi alla fine è il risultato finale. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo andare in vantaggio e non avremmo il passaggio niente. Questo è stato un episodio del rigore, forse così, non tanto nel palo di mani, ma probabilmente c'era, ma era battuta veloce. L'arbitro non ce l'aveva, mi aveva detto che fischiava il gol. Troppi piccoli alibi. Secondo il tempo è stata una partita non bella. Negli ultimi dieci minuti, quando si sono un po' allungate le squadre, i colpi dei giocatori importanti della maternana hanno arrotondato un punteggio, troppo severo sicuramente.